Allora, Maria Grazia, grazie che sei qua. Adesso siamo a giro di boa perché stiamo facendo il controllo di questo plantare particolare, ma prima di parlare del plantare parliamo del problema che ha avuto Maria Grazia che il professore esposito del San Giovanni che è un neurochirurgo ha detto che può accadere che negli interventi di ermia del disco nella parte lombare può succedere l'imprevisto perché negli interventi può succedere l'imprevisto. L'imprevisto è stato quello di avere prodotto a sinistra un piede equino varo supinato e ciondolante. Equino vuol dire che sta giù così, varo, supinato, ciondolante e quindi non ha né energia e è piegato verso l'esterno e che sta in basso. E' venuta all'agosto, la carinidia era molto gonfia. E che cosa abbiamo fatto? Una cosa particolarissima. Qui c'è il copyright, diciamo, ma in realtà togliamo il dedo. Abbiamo dato una sorta di propulsione nella parte posteriore per far sì che il piede ciondolante andasse avanti. Un contenimento laddino sulla parte laterale per impedire al piede di andare fuori. Una forma a barchetta per dare la deambulazione che lei non può più avere sul piede sinistro. L'immissione del carbonio per non far torcere il plantare e farlo iniziare. E il risultato è stato che il piede si è asciugato e cammina meglio. Sicuramente. Ecco, quindi la medicina non è solo chirurgica, è preventiva, è sintomatologica, ma anche compensativa. E allora possiamo dire che è un'opera d'arte, ma non per elevarci, perché è l'ingegno umano che va a sostegno del corpo per permetterci di stare meglio. Grazie. Prego.